E' un'altra nostra stanza nell'abbergo che nevicando sta nevicando mo mi mette a mezzo ai mani ed ecco voi i nostri visitatori che ha detto che voleva comprare qualcosina la sua figlia è vero? Grazie a tutti i nostri spettatori 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.